Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati, ci rivediamo dopo la sessione mattutina del seminario Tondelli, quindi questa mattina è stata il ventesimo anniversario del seminario. Il seminario correva l'anno 2001 appunto quando c'è stata la prima edizione curata da Villermasoni, Sandra Seeger, Antonio Spadaro. Sono passati appunto vent'anni e anche questa mattina è stata veramente ricca di interventi, di contributi e molti di questi contributi hanno proprio ricordato l'anniversario che andiamo oggi a ricordare anche noi, che è quello appunto del trentesimo anno del weekend postmoderno. Ringraziamo anche Gino per averci seguito anche quest'oggi pomeriggio, per il coordinamento che ha fatto anche questa mattina, per i suoi interventi, per riuscire in questo modo sempre a legarli, insomma, quindi ringraziamo molto anche Gino Ruozzi per essere con noi e ringraziamo Fulvio Panzeri perché quando ci siamo interrogati appunto su come ricordare questo anniversario era ovvio e assolutamente doveroso coinvolgere chi allora era un giovane critico che insieme proprio a Pier Vittorio Tondelli riusciva a capire come impostare un intenso lavoro di critica e di risistemazione di tutto quello che era stata la produzione giornalistica che ha attraversato un decennio degli anni Ottanta. Per cui io a questo punto lascio la parola a Gino, lascio la parola a Fulvio Panzeri e ci vediamo dopo per l'intervento di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto. Sì, grazie Erika, mi limito semplicemente a sottolineare alcuni aspetti di stamattina, dell'incontro di stamattina, molto ricco appunto con tante belle relazioni e approfondimenti, principalmente dedicati a weekend postmoderno, si sono evocati vari nomi da Pasolini, due relazioni su Arbasino, sui rapporti appunto lontani, ma relativamente vicini sul piano culturale tra Arbasino e Tondelli. Si è parlato di altri autori, anche di Delfini, insomma a Rosita Copioli, quindi anche un po' quello che era il mondo vicino a Rimini. Quindi c'è stata una ricca serie di interventi che hanno aperto secondo me anche prospettive interessanti, sia naturalmente sull'intera produzione di Pier Vittorio Tondelli, ma in particolare su weekend postmoderno. A parlare con noi con grande piacere c'è naturalmente Fulvio Panzeri che ha seguito l'officina proprio di questo testo così importante, quindi chi meglio di lui può farci entrare all'interno di questo testo. Volevo anche dirgli forse una delle cose che stamattina è emersa meno anche il rapporto tra weekend postmoderno e l'abbandono, ecco se potevi poi nel corso del tuo discorso intervenire anche su questo aspetto. Grazie Fulvio di essere con noi. Buon pomeriggio a tutti. Dovendo riprendere in mano il ricordo di un weekend postmoderno che dopo 30 anni ho avuto un po' di… come dire, mi sono emerse tante cose, materiali, documenti di cui non mi ricordavo assolutamente più. Descrivo un attimo come è stato il lavoro, perché per me è stato un lavoro fondamentale quello con Pier Vittorio proprio riguardo il weekend postmoderno in quanto si è trattato di un confronto tra un giovane critico come io ero allora, che mi occupavo molto di nuova narrativa italiana e uno scrittore che avevo incontrato per un libro, un progetto a più voci che avrebbe dovuto uscire e che poi non è mai uscito. Il libro in questione prevedeva l'intervento di quattro giovani critici e ognuno di loro avrebbe dovuto intervistare quattro scrittori tra cui c'erano Tondelli e Lodoli e ad ognuno era stato assegnato uno scrittore a seconda delle proprie convergenze e affinità, ma non solo, anche proprio per questione di vicinanza geografica. A me era stato chiesto di intervistare Pier Vittorio che conoscevo molto bene e da questa intervista e da quello che era nato durante questa intervista era cresciuta una, come dire, una sorta di amicizia e Pier Vittorio è rimasto molto colpito dal tipo di documentazione con cui io ero arrivato da lui, avendo tutti, gran parte degli articoli che lui aveva scritto sull'Espresso, una miriade di interviste che avevo fotocopiate tutto, per cui una documentazione comunque molto ampia rispetto al suo lavoro non solo quello pubblicato ma anche quello meno evidente che erano i ritagli di giornale. Poi era stato molto contento dell'intervista e alla fine dell'89 ne aveva parlato con Elisabetta Sgarbi, era nata l'idea di questo progetto cui lui voleva dar corpo di raccogliere tutta la sua produzione diciamo giornalistica ma non solo, anche frammenti inediti che lui aveva nel suo archivio e via di seguito, solo che c'erano delle problematiche. Uno era il tempo perché doveva essere un repertorio che raccontasse in qualche modo gli anni 80 e il tempo a disposizione per realizzare il volume era veramente poco perché fine 89 c'era tutto il materiale da recuperare perché quello che avevo era molto ma bisognava poi andare a recuperare anche quello che mancava, articoli pubblicati su fanzine che erano assolutamente introvabili, altre cose su dei libri usciti in edizione limitata e via di seguito. Per cui lui aveva bisogno di qualcuno con cui poter lavorare e condividere il progetto e che in qualche modo lo aiutasse a portare a termine il libro che vedendo poi è diventato una semi enciclopedia. A me l'ha chiesto, logicamente gli ho detto di sì che non avevo assolutamente problemi e perché poi mi piaceva questo lavoro nuovo, il fatto che un critico e uno scrittore in qualche modo si parlassero e si confrontassero. Per cui siamo partiti raccogliendo tutto il materiale che lui pensava di inserire nel campus moderno che non era una semplice raccolta, era qui la difficoltà dell'impresa. Non doveva essere una semplice raccolta e ripubblicazione di articoli ma una sorta di riscrittura di questi articoli ai quali mancava una struttura e l'importante del campus moderno è che è un libro che per poter essere eletto aveva bisogno appunto di struttura e da una parte c'erano e qui rispondo alla domanda, la differenza che c'è tra un un campus moderno e l'abbandono. Anche io adesso ripensandoci, però allora era nata così e Pier Vittorio l'aveva pensato in questo modo, aveva pensato il campus moderno in due volumi. Un volume dedicato alla scrittura proprio così giornalistica ma rivista e l'altra dedicata alle scritture più di tipo di tipo narrativo. Logicamente erano stati accantonati da lui alcuni pezzi che erano sostanzialmente la parte più importante dell'abbandono e la parte dedicata ai ai racconti erano stati come dire accantonati come come weekend postmoderno 2 e il progetto iniziale era un weekend postmoderno cronache dagli anni 80 ed è il libro poi che è uscito alla fine del 1990 e il weekend postmoderno 2 racconti dagli anni 80. Logicamente io ho preso poi l'eredità del weekend postmoderno 2 come curatore e mi sono ottenuto i materiali che Pier Vittorio ha deciso di mettere da parte per l'weekend postmoderno 2 che erano racconti sui quali sostanzialmente non riteneva di dover intervenire più di tanto. Poi la morte ha lasciato il progetto non concluso e non visto da lui che avrebbe potuto anche inserire delle modifiche o decidere poi come avvenuto durante la lavorazione dell'weekend postmoderno di riscrivere o di ampliare alcuni temi o alcuni argomenti se non di rivedere tutto, di ricontrollare tutte le citazioni, di riscrivere totalmente il libro proprio proprio per dare una forma che in qualche modo correggesse gli eventuali errori dovuti alla contingenza dell'origine giornalistica e in qualche modo ampliare laddove fosse stato necessario alcuni argomenti che gli stavano particolarmente a cuore per cui leggo ancora oggi si parla di un weekend postmoderno come raccolta di articoli io devo dire che sono assolutamente, avendoci lavorato e soprattutto avendo lavorato alle bozze stesse non è un weekend postmoderno non è una raccolta di articoli un weekend postmoderno è una ricostruzione di materiali giornalistici che Pier Vittorio ha pubblicato e che ha completamente rivisto, è andato a verificare tutte le citazioni dei libri nella sua biblioteca annotava tutte le correzioni che voleva fare, in molti casi ha proprio riscritto e ampliato gli articoli e le citazioni, per cui non è una raccolta di una semplice antologia della sua produzione giornalistica tant'è vero che lui lo chiama come un sottotesto di quello che è la sua produzione narrativa l'ha intuito, lui che è un postmoderno, proprio come un sottotesto allora come è stato, come è andato avanti il lavoro abbiamo fatto scannerizzare tutto eravamo nel 89 per cui tecnologicamente non ancora in fase avanzata però tramite la casettrice Bombiani avevamo mandato tutto il cartaceo giornalistico e fatto scannerizzare per cui noi avevamo tutto il materiale scannerizzato su cui poter lavorare Pier Vittorio aveva dei problemi con il computer, con la stampante che erano lentissime e tutto per cui avevamo preso la decisione che io gli avrei stampato i vari pezzi lui con delle matite, queste bozze sono presenti nel suo archivio personale per cui è tutto documentato e quando decideremo di lavorare anche al fatto di poterle mettere a disposizione degli studiosi, si vedrà il tipo di lavoro che è stato fatto per cui lui con delle matite segnava io li stampavo su dei fogli A3 in modo che lui aveva tutto un margine bianco per poter fare le correzioni e le sue annotazioni e poi cosa facevo? lavoravo nel mio computer inserendo tutte quelle che erano le correzioni che lui aveva voluto apportare al testo correzioni o elisioni di brani e tutto proprio per avere una coesione stilistica e narrativa piuttosto molto precisa il problema del libro era la struttura che struttura dare? allora la struttura è nata proprio dall'idea di costruire degli scenari e l'idea era quella di fare un romanzo critico nell'ottica di Pier Vittorio come lo era stato grazie per le Magnifiche Rose di Arbasino un romanzo critico nel senso che non era un romanzo era un romanzo come dire un romanzo diverso un romanzo che affrontava degli scenari e li affrontava in una maniera appunto critica perché erano una sorta di appunti di tappe di un viaggio che era stato fatto da lui nel tempo e negli anni e da questo viaggio erano emersi poi i temi le atmosfere, situazioni che erano confluite anche nella scrittura dei suoi romanzi e dei suoi racconti e lui Campos moderno è come una sorta di romanzo critico ma anche romanzo di formazione perché se vediamo da una parte ci sono tutti sono pezzi a cui lui era molto legato quelli che riguardavano la sua giovinezza quelli che riguardavano anche la sua memoria contadina pezzi pubblicati all'indomani dalla pubblicazione di altri libertini e che aveva pubblicato sul resto del Carlino e in qualche modo riguardavano un po' la situazione di provincia che lui aveva vissuto per poi passare al viaggio vero e proprio che vedeva e ha visto tappe importanti come tutto il discorso della musica e lì nello scenario riguardante la musica attraversa effettivamente passioni, mode e nei termini non solo autobiografici ma anche proprio di osservazione dei fenomeni di quello che è accaduto appunto negli anni Ottanta visto però da una prospettiva totalmente personale come del resto un altro scenario è quello degli anni del 25 quello della lettura e quello della scrittura e del lavoro con la scrittura giovanile per poi passare al discorso del viaggio a livello internazionale che è visto in due tappe una tappa è un viaggio visto attraverso l'ottica degli scrittori più amati e comunque che lo avevano interessato di più una sorta di confronto anche con quello che avveniva sulla scena letteraria internazionale soprattutto quella americana e con alcuni miti che erano stati importanti per lui come Kerouac e la definizione di ciò che aveva rappresentato per lui questo scrittore per arrivare poi alla geografia letteraria dove termina dopo alcuni come dire alcuni casi termina con quel saggio straordinario che è Cabine Cabine in cui rilegge tutto tutto quello che è il suo essere emiliano e romagnolo attraverso la presenza degli scrittori a Riccione in un viaggio come dire che conclude o è una sintesi di ciò che è avvenuto già all'interno del weekend postmoderno nelle sue cronache riminesi dalla riviera adriatica in un'ottica completamente diversa che è quella di spiegare alcune differenze tra l'essere emiliano e l'essere romagnolo e sul fatto di quanto Rimini o comunque Rimini sia un un luogo se un luogo quasi della un luogo onirico del della cultura popolare una sorta di dimensione astratta proprio dell'idea di svago e di e di divertimento per concludere alla fine con il giro in Italia che è l'annotazione forse più personale di eventi concerti e cose varie questo è quanto riguarda weekend postmoderno e appunto stavo dicendo che lui correggeva con la matita io inserivo le correzioni nel nel mio computer poi le ridavo e insieme decidevamo la sequenza all'interno dello scenario dove non so non mi ricordo più come è stato fatto questo lavoro perché è fatto in sei mesi perché poi abbiamo lavorato da aprile fino a è stato chiuso alla fine di agosto perché poi avrebbe dovuto andare avrebbe dovuto andare stampa e poi c'è stato il lavoro molto molto preciso proprio da parte di Pier Vittorio che da quel punto di vista era molto pignolo di correzione delle bozze che è durato credo un mese passa e di quello l'unica fotografia che ci ritrae insieme mentre ve la faccio vedere l'ho tirata fuori oggi con grande nostalgia perché la tengo nello studio proprio come un e qui stiamo stiamo chiudendo il il stiamo chiudendo le bozze e stiamo definendo l'indice l'indice dei nomi per cui ci abbiamo impiegato tre giorni a a farlo proprio perché ormai il libro era definito avevamo tutti i numeri di pagina e Pier Vittorio per dire anche la precisione di come aveva lavorato si era premurato di controllare che anche quello fosse esatto è l'unica fotografia che ci è rimasta perché c'era stata scattata mentre stavamo lavorando chiusi in casa da 48 ore dalla persona con cui Pier Vittorio condivideva l'appartamento a Milano non non mi sarei mai aspettato che poi Weekend Postmoderno che inizialmente non era stato probabilmente capito capito a fondo dalla critica quando era quando era uscito poi c'è stato un libro che ha assunto nel corso del tempo nel corso di questi 30 anni ha assunto una forza proprio da parte dei lettori una forza incredibile tant'è vero che ci sono stati dei momenti in cui dalle richieste che di informazioni chiarificazioni e tutto ricevevo sembrava che fosse un libro appena uscito perché ci sono stati i momenti in cui questo libro ha assunto un carattere molto molto importante ed effettivamente per quanto riguarda gli anni 80 è una sorta di viaggio viaggio in tutti i sensi che è un viaggio interiore è un viaggio collettivo è un viaggio attraverso le culture tutto visto attraverso l'osservazione e l'occhio personale di Pier Vittorio e io oggi volevo parlare al di là di queste che sono come dire ricordi di un di un lavoro che che è stato un lavoro un lavoro grosso ma anche un lavoro molto arricchente per per entrambi perché da una parte a me ha dato molto il fatto di confrontarmi con Pier Vittorio a lui come dire serviva una sorta di sicurezza poi l'ho capito più tardi con quello che è successo il perché della fretta di uscire con questo con questo libro ed è meglio che comunque io non abbia saputo nulla perché come dire abbiamo lavorato con molto più con molta più tranquillità anche rispetto a ansie che lui aveva ansie che che derivavano appunto proprio dalla mancanza di tempo e il fatto di lavorare in due come dire ha fatto sì che lui ehm operasse come voleva con tutto il tempo che voleva senza avere poi eh quelli affaticamenti o comunque quegli affanni che derivavano dal fatto di dover poi eh operare al all'interno del 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 computer perché il lavoro poi lo facevo io quello di mettere le modifiche eh all'interno del testo eh leggendo dai suoi dalle sue correzioni autografe e dall'altra parte comunque anche la possibilità di avere un confronto diretto rispetto a dei dubbi che eh che eventualmente che eventualmente aveva io in questi anni ho trovato eh grande un grande lavori molto importanti rispetto a un campus moderno per cui anche indagini relative alle sezioni eh e lo trovo un libro ancora assolutamente ricchissimo eh per quanto riguarda tantissimi aspetti dal dal nuovo fumetto italiano alla alla scena teatrale eh che eh che cambiava in quegli in quegli anni eh dai gruppi musicali indipendenti e via via ne abbiamo dato ampia documentazione e testimonianza durante le eh giornate tondegliane negli ultimi negli ultimi anni eh vedremo poi eh e ci le autrici ci parleranno del del lavoro del film che è stato realizzato su un altro aspetto importantissimo di di il campus moderno che è la presenza delle delle discoteche tutto per cui è un libro che stimola ancora moltissimo e offre occasioni per eh per poter dar origine a eh ad altre opere ad altre ricerche a mostre a eh a recuperi di eh scenari che eh che altrimenti sarebbero stati eh sarebbero stati dimenticati eh però quest'anno volendo ricordare un weekend postmoderno io mi riallaccerei a un anniversario ricordando altri due anniversari eh due anniversari importanti di due scrittori che secondo me segnano profondamente eh l'weekend 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 postmoderno e questi due scrittori sono due scrittori italiani due minori eh perché la critica in qualche modo non li ha eh li ha sempre come dire relegati al ruolo di minori e non li ha mai inseriti nel canone eh eh tradizionale della della narrativa del del novecento e c'è sempre questo discorso qua del minore che non non si riesce a capire perché quando si è grandi scrittori si è grandi scrittori non si è grandi scrittori però minori in un in un certo in un certo canone a volte è la vita che eh non permette ad alcuni scrittori di ehm di affermarsi perché la morte coglie eh coglie prima o perché questi scrittori fanno delle scelte comunque che sono eh al di fuori del contesto eh mh come dire convenzionale e convenzionato della società italiana e sono proprio due due casi eh come questi e quest'anno abbiamo questi anniversari l'anniversario della nascita di ehm di Silvio Darzo e l'anniversario della nascita di eh Carlo Coccioli ehm e sono due scrittori che in qualche modo spiegano spiegano moltissimo eh Tondelli eh perché in questi scrittori lui trovava delle eh forti affinità proprio come come scrittori italiani allora il ehm su Darzo eh si è lavorato molto una decina di anni fa anche a livello filologico sulle sue carte sulle pubblicazioni delle varie versioni di Casa d'Altri e tutto quest'anno è stato un un anniversario eh celebrato un po' più sotto sotto tono anche se bisogna segnalare comunque l'uscita di un di un inedito prezioso curato da eh Alberto Sebastiani ve lo faccio vedere questo eh è Jack dell'avventura ed è un primo libro per ragazzi che Darzo aveva aveva scritto ma poi non aveva non aveva eh eh completato e in qualche modo aveva abbandonato per cui Sebastiani ha ripreso il il dattilo scritto lo ha ricostruito da da ottimo filologo eh cui è e tutto e ha chiesto a eh Eraldo Affinati grande scrittore italiano anche lui molto appassionatissimo di eh di Darzo di scrivere un epilogo per questo per cui questo è l'omaggio che viene fatto a Silvio Darzo eh però mh vi voglio leggere per dirvi quanto l'anima di Darzo si senta in tante cose di Tondelli o come Pier Vittorio abbia ripreso tantissimo dell'anima eh di Darzo e anche delle prospettive di Darzo perché c'è il Darzo che è eh uno scrittore se vogliamo appartato è uno scrittore che eh vive sull'Appennino eh reggiano ambienta le sue storie sull'Appennino reggiano ma è uno scrittore che guarda eh anche molto alla letteratura inglese Contea inglese uno dei suoi libri più più importanti per cui molti anni prima prima di lui eh mostrava questo interesse anche verso la letteratura anglosassano comunque un tipo di eh letteratura internazionale che in qualche modo ampliasse gli orizzonti di quella linea appenninica a cui però rimaneva sempre legato e credo che sia il caso di rileggere quello che scriveva Tondelli perché Adarzo dedica uno dei suoi pezzi più belli e lo dedica nel nell'ottantanove nel suo giro anzi nel novanta proprio eh nel suo giro in in provincia quando parla di Reggio Emilia in un pezzo in cui eh parlava della come dire della sua della sua terra e eh e diciamo non da un un ritratto critico come fa per altri per altri scrittori però da un eh lo ricorda dal punto di vista eh dal punto di vista umano eh come dire indicando una sorta di corrisponsione e tra l'altro è uno dei pezzi che in qualche modo chiude l'weekend postmoderno allora l'weekend postmoderno si chiude proprio su 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 questo sul ricordo di Silvio Darzo e eh sul sul ricordo dell'immagine della madre che gli viene da una canzone da una canzone di zucchero e questo eh non è eh non è da poco eh il fatto che abbia scelto di concludere il suo viaggio proprio nel segno di nel segno di Darzo allora eh allora vi leggo quello che che dice eh che dice che scrive Tondelli d'altra parte ecco l'Appennino ecco i luoghi luoghi matildici cosa offre alla città al suo capoluogo di provincia questa terra impervia che dà verso la Toscana o più correntemente in metto nella lunigiana è forse un caso che casa d'altri il racconto più celebrato di Silvio Darzo si è ambientato proprio in un piccolo borgo appenninico dove a una certa ora e qui cittadarzo i calanchi di boschi e i sentieri e i prati dei pascoli si fanno color ruggine vecchia e poi viola e poi blu deve esserci una ragione nella storia della vecchia montanara che chiede al prete la dispensa per potersi suicidare c'è tutta la solitudine una certa arguta follia una malinconia ecco la parola giusta tipiche del carattere emiliano che sia Darzo sia il modenese Antonio Delfini hanno saputo in modi modernissimi raccontare e più avanti ancora dice ma Silvio Darzo con tutto il suo amore per gli scrittori inglesi e americani la sua venerazione per Emilio Cecchi le sue traduzioni rilancia pur da una direttrice che abbiamo visto diversa quello stesso mito di Reggio e della provincia emiliana come luoghi privilegiati di un sogno americano di un percorso che mentalmente scavalca l'oceano per trovarsi là i propri maestri come cantava Francesco Cuccini correva la fantasia dentro la pratteria fra la via Emilia e l'Ouest vent'anni dopo è il reggiano Zucchero a riprendere quella stessa passione a fondere nei suoi blues nostalgie e malinconia a mischiare i linguaggi e i dialetti fino a quel superbo epilogo di diamante dove una stridula voce femminile grida in lontananza delmo vinaca immagine assolutamente d'Arzeana una vecchia contadina davanti alla soglia di casa nell'ora del primo buio ecco questo era il mio maggio e in questo in questo diciamo anniversario che accomuna d'Arzo Unicampus moderno e e tondelli perché è come se in in d'Arzo ritrovasse molte delle caratteristiche del suo del suo essere l'altro scrittore invece che come dire Pier Vittorio ha al quale Pier Vittorio ha dato una seconda possibilità anzi ha dato una possibilità assoluta di essere riconosciuto e conosciuto è Carlo Coccioli Carlo Coccioli di cui quest'anno eh per l'anniversario invece si è fatto veramente molto grazie a un a un editore eh Lindau e all'accordo che ha fatto col nipote di Coccioli che hanno deciso di riportare in libreria tutti i libri dello scrittore e finalmente perché è così eh eh uno scrittore grande anche lui considerato minore eh che in qualche modo ha vissuto situazioni simili a quelle che eh ha vissuto eh Pier Vittorio censurato eh negli anni cinquanta per Fabrizio Lupo un romanzo uno dei primi romanzi italiani che parlava di omosessualità uscito in Francia un successo assolutamente clamoroso mai tradotto in Italia dall'inizio degli eh dalla dalla metà degli anni cinquanta eh tradotto in Italia solo nel settantasette eh e non è che che fosse un romanzo scandalosissimo eh era solo il tema dell'omosessualità che veniva che veniva affrontato in maniera piuttosto esplicita eh e però eh in Italia è stato completamente eh completamente eh completamente censurato ehm Coccioli è lo scrittore di uno scrittore assai prolifico trenta libri ha fatto delle scelte eh assolutamente inusuali per uno scrittore per uno scrittore italiano ha scelto di andare a vivere in Messico per cui eh ritornava in Italia ogni tanto ma poi il suo il paese dove eh si è sempre trovato a suo a suo agio è stato il 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 Messico che non ha mai voluto poi lasciare definitivamente perché eh lì eh ha vissuto eh e eh lo diceva in un'intervista che eh gli sarebbe piaciuto poter ritornare in Italia e tutto però il Messico aveva una sorta di fascinazione per lui che eh da non da non riuscire a eh a staccarsene eh per cui e Coccioli è autore di libri assolutamente bellissimi non solo ma assolutamente eh assolutamente intensi eh autore che eh merita non una una seconda ma merita la possibilità assolutamente definitiva di essere presente nelle librerie italiane e finalmente questa questa questo sta avvenendo eh e entra come dire con forza nel catalogo delle edizioni Lindau eh e ci resta eh a definire la la forza la sua forza di scrittore la sua originalità e soprattutto il suo percorso un percorso che lo porta ad un nomadismo tra le 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 unico tra gli scrittori italiani un nomadismo tra le religioni che affascina molto che affascina molto tondelli e arrivano in libreria proprio grazie all'indau libri che non erano più stati assolutamente ripubblicati da quando erano usciti in prima edizione italiana eh adesso vi faccio vedere alcuni e soprattutto racconto un ricordo personale che come dire ha a che fare con l'weekend postmoderno cioè il primo e unico incontro tra tondelli e coccioli che avviene proprio trent'anni fa prima che noi iniziassimo a lavorare al weekend postmoderno e in qualche modo è come se Coccioli fosse stato una sorta di protettore di questo eh di questo progetto eh perché all'inizio era la fine di gennaio questo me lo ricordo perché è una giornata milanese molto molto grigia e umida eh quando siamo andati negli uffici della della casa editrice Rusconi che pubblicava Coccioli in Italia in quegli in quegli anni ed era uno scrittore che non era come dire intervistato molto eh e anche poco eh poco recensito a me interessava molto eh avere una un'intervista con un'intervista con lui visto che lui era in Italia e presentava questo libro eh da parte dell'ufficio stampa eh mi era eravamo riusciti ad accordarci per eh per 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 incontrarci e io avevo sentito Tondelli e gli avevo detto di questa cosa sapendo del suo interesse per per Coccioli eh loro non si erano mai incontrati si erano eh il loro incontro era avvenuto solo tramite una cartolina in cui Coccioli lo ringraziava della recensione che Tondelli aveva fatto a Piccolo Karma che era il libro poi che come dire il in qualche modo era piaciuto moltissimo a Tondelli e che eh era stato pubblicato da Mondadori e che Pier Vittorio aveva aiutato molto a eh anche a far a far leggere da da parte dei giovani italiani un un consiglio che forse però non è bastato a risvegliare l'interesse verso Coccioli da parte della critica da parte della critica italiana e Piccolo Karma se lo volete adesso qui ho tutta la serie dei libri di eh che è usciti da Lindau e ve li faccio vedere allora Piccolo Karma esce è uscito quest'estate e questo è un è il libro che in qualche modo inizia eh col quale Pier Vittorio inizia il eh il percorso di lettura critica e personale dell'opera di di Coccioli mentre il libro che è assolutamente che è assolutamente un adesso non lo trovo il libro che è assolutamente un eh eh una sorta di eh come dire novità è proprio Buddha e il suo glorioso Buddha e il suo glorioso mondo che è uno dei primi libri che è stato ripubblicato da da Lindau eh quello per cui eravamo andati per la per la per l'intervista allora vi faccio vedere gli altri libri di Coccioli che sta pubblicando Lindau documento cento ventisette che eh racconta mh il rapporto tra Coccioli e la cultura ebraica che porterà alla scrittura di Davide eh Buddha il glorioso mondo che è legato poi a eh anche a piccolo karma e alla sua visione del buddismo poi un altro un classico il cielo e la terra per cui se andate nel sito di Lindau eh trovate trovate tutte le informazioni sui libri che stanno che stanno che stanno uscendo di Coccioli eh allora eh io proprio su Coccioli vorrei ehm finire questo questo incontro e eh in qualche modo invitare a rileggere Coccioli nell'ottica dei tondelli e a rileggere il pezzo che Pier Vittorio ha scritto eh e che ha riscritto totalmente perché di quell'incontro su Rockstar eh quell'incontro su Rockstar lui eh nella rubrica che che tiene sulla rivista musicale eh pubblica venti righe Nello il campus moderno racconta tutta eh tutta l'intervista inizialmente Tondelli è timido non vuol venire a intervistare Coccioli ha paura di disturbare io gli dico ma tu non disturbi assolutamente alla fine gli do un appuntamento e gli dico senti una cosa se vuoi incontrare Coccioli io sono a Milano mh alla talora raggiungimi lì e eh è tutto è arrivato con uno zainetto pieno di tutti i libri di Coccioli da farsi da farsi autografare e tutto eh è stata una più che una intervista una una grande conversazione eh e con un uno scrittore che abbiamo percepito come un grandissimo scrittore molto solo e molto appartato per per quanto l'abbiamo l'abbiamo visto lì ma assolutamente eh interessantissimo sia per quello che ha detto ma soprattutto per la ricerca di un percorso e di un nomadismo mh letterario assoluto un percorso unico tra quelli fatti dagli scrittori dagli scrittori italiani io avevo ne ho mi sono accorto cercando nel mio cercando tra il mio archivio mi sono ho trovato mi sono accorto che ho scritto due pezzi uno l'intervista canonica che avevo pubblicato su avvenire e l'altro credo per un giornale di provincia in cui raccontavo proprio il rapporto tra Coccioli e Tondelli come li avevo visti in quel in quel pomeriggio e allora vi leggo la parte la parte finale perché facendo un confronto a distanza di 30 anni tra le due versioni per cui la versione di Pier Vittorio che c'è nel nel We Campus moderno la mia versione giornalistica di 30 anni fa ritrovata nel nell'archivio del del computer allora vi voglio vi volevo leggere questo scusate che è quello che dice che dice Coccioli a a Tondelli e credo che sia molto che sia molto curioso allora io scrivevo conclusione Tondelli si fa fermare tutti i libri ad ognuno Coccioli scrive una dedica man mano che li prende in mano ognuno sottolinea un brevissimo ricordo poi Coccioli ricorda Tondelli di aver letto il primo libro altri libertini e gli dice sa che leggendo quel libretto straordinario con tutte quelle corse in automobile ho capito che l'Italia stava cambiando modificava se stessa e il proprio modo di essere ecco questa cosa è stata come dire l'ho trovata significativa il fatto come già allora Coccioli avesse riconosciuto la novità espressiva ma anche proprio di lettura dello sguardo diverso che Pier Vittorio andava andava ponendo sull'Italia di quei primi anni di quegli anni 80 quelli che poi ha raccontato appunto nel Louis Campos moderno e tra grandi scrittori e soprattutto grandi scrittori in qualche modo appartati ci si capiva e soprattutto il talento nel capire il talento c'era una sorta di reciprocità per cui l'invito è a in questo anniversario oltre a rileggervi o a rileggerci Louis Campos moderno perché ci si trova sempre qualche sorpresa è quello di rileggere anche quelli che sono stati gli scrittori che in qualche modo Tondelli ha amato ha fatto propri due scrittori che assolutamente hanno inciso moltissimo nel suo modo di vedere il mondo nel suo modo di vedere se stesso che sono appunto da una parte il conterraneo Silvio Darzo e dall'altro uno scrittore in fuga nel mondo come Carlo Coccioli grazie grazie a te moltissimo Fulvio come sempre sia per diciamo le riflessioni le informazioni la partecipazione che riesci sempre a darci di questo straordinario percorso che hai fatto insieme a Pier Vittorio Tondelli e poi per queste due indicazioni di lettura sicuramente quella di Darzo e più innovativa ancora quella di Coccioli insomma perché su Darzo naturalmente c'è stata quella pagina meravigliosa di Camere Separate intervenuto più volte più volte questa di Coccioli insomma rappresenta una cosa importante che tra l'altro si colloca come dici tu stesso appunto in un momento in cui si può riscoprire si può ritornare a leggere anche Coccioli insomma poi a me colpiva molto soprattutto andando a rivedere i documenti originari cioè la mia versione di quell'intervista mi ha colpito molto quello che io avevo ripreso che Pier Vittorio logicamente non ha descritto ma il fatto che Coccioli gli dica questa cosa che già Coccioli riconosce come all'inizio degli anni 80 già riconosce la forza innovativa che avrà Pier Vittorio nel decennio successivo ecco e in qualche modo a distanza si sono seguiti fino a che si sono incontrati proprio quando come dire con l'Icampus moderno si tirava le somme del decennio una sorta di epilogo certo esatto sì sì grazie Fulvio veramente bellissimo ti ringraziamo moltissimo lo faccio a noi grazie a voi dell'ascolto io sono molto contento quando soprattutto bisogna aiutare a far leggere gli scrittori che si amano certo certo veramente grazie grazie mille adesso allora ci ci spostiamo restiamo sempre all'interno dell'ambiente di Weekend Postmoderno con Lisa Bosi e Francesca Zerbetto che adesso vedremo ciao Lisa ciao Francesca questa volta andiamo in un altro versante di questo grande mondo appunto di Pier Vittorio Tondelli in occasione del vostro film Disco Ruin nel quale avete ricostruito appunto 40 anni di discoteche club culture italiana e adesso vi chiedo che cosa avete fatto da quali punti di riferimento siete partiti che cosa avete ricostruito reinventato non lo so come dire perché in ogni opera di ricostruzione c'è anche una reinvenzione ecco Lisa cominci tu comincia Francesca Francesca sì allora Disco Ruin è una come dicevi tu è un viaggio visionario dalla Scesi al depino del club italiano durato 40 anni uno spaccato di una realtà molto lontana dalla realtà quotidiana un mondo quasi parallelo l'idea nasce appunto come dicevamo anche prima dalla fascinazione di tutte le rovine di questi ruderi abbandonati e spazi un po' in tutta Italia c'è chi chiama cattedrali del divertimento cattedrali abbandonati o astronavi fuori uso ma sicuramente sono architetture molto suggestive molto affascinanti proprio perché come parlavamo anche prima con voi sono luoghi completamente abbandonati ma con ancora dentro il sapore di un passato che ancora risuona di una sua potenza di una sua energia e questo ci ha così fatto mi ha voglia di raccontare questa storia che spesso è stata una storia poco conosciuta e soprattutto maltrattata maltrattata da una cronaca del tempo che ha liquidato questo mondo che invece ha lasciato dei segni molto importanti nella cultura italiana ma non solo ne ha descritto e sottolineato solo gli aspetti negativi e questo è un po' rimasto nell'immaginario attuale di questi luoghi abbiamo pensato quindi di applicare questo lavoro anche per riabilitare per rendere giustizia per onorare questi posti che hanno saputo creare anche tanta cultura a contaminare vari ambiti dell'arte nel mondo dell'arte nella moda nel design nella cultura nella musica ovviamente nel teatro nelle arti performative non tutte le discoteche noi infatti abbiamo selezionato quello più diciamo sperimentale che le hanno più usate in coppia all'avanguardia in coppia underground e quindi questa è la motivazione più 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 forte e c'è anche un altro aspetto secondo me che va sottolineato dell'importanza dei suoi luoghi anche un aspetto speciale non tutte le discoteche hanno soprattutto in un certo periodo hanno saputo creare per il mondo della nostra una comunità molto forte luoghi di collaborazione che hanno saputo accogliere anche le diversità di governare un po' le differenze genere a parte delle barriere sociali luoghi in più poteri esteri volenti e di grande libertà grande libertà che non ci verrà al cuore di questi occhi noi cominciamo con gli anni sessanta cominciamo proprio dalle origini dalle ballere dai balli di coppia per poi passare a racconto di grandi artisti come con la pietra di rossi di movimento radicale che hanno fatto l'esigenza di creare nuovi luoghi di applicazione per rispondere a un'esigenza della società del tempo fedeva che non stavano cambiando faccio una carrellata molto veloce facci qualche nome qualche luogo negli anni sessanta il nome per tutti è il piper che diventa il big bang di tutto che nasce a Roma ma che De Rossi porta anche a Torino costruisce anche a Torino e poi il space elettronica a Firenze costruito del movimento radicale un posto anche assolutamente innovativo anche dal punto di vista del design da lì ci sono passati grandi nomi da Carmelo Bene alle altre compagnie teatrali dell'epoca assolutamente sperimentali e con gli anni settanta abbiamo la nascono le radio libere e quindi l'Italia viene invasa dalla disco music americana e quindi ci avviamo verso il tipo di discoteca che poi viene cavalcata dalla Febbre Sabata Sercola l'immagine della discoteca che si ha per eccellenza e una per tutte anche qui faccio un nome che diventa un po' il prototipo delle discoteche a venire è la Baia degli Angeli che nel 75 nasce a Gabice Mare Gianfranco Tirotti che è l'imprenditore che si inventa che ha viaggiato negli Stati Uniti e che ha vissuto a New York e si inventa cioè importa ma si inventa anche quello che diventerà un po' il 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 vero prototipo della discoteca che si svilupperà negli anni successivi e importa anche i DJ quindi diventa anche i DJ cominciano a essere che sono americani cominciano cominciano a essere gli attori principali protagonisti certo protagonisti dopo il periodo dei complessi perché inizialmente c'erano i complessi che suonavano esatto sì 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 c'erano i complessi che suonavano dal vivo e soprattutto non si mixava non esisteva il messaggio quindi comunque anche questa è un'innovazione importantissima per l'evoluzione del mondo del sud e poi arriviamo agli anni 80 in pieno in pieno adonismo dove si esce dai bui e tristi anni 70 per entrare in un mondo nel postmoderno appunto dove il conformismo viene completamente o comunque osteggiato combattuto torna c'è una grandissima voglia di divertimento di leggerezza una leggerezza che non è superficialità ma semplicemente una voglia di vivere di sperimentarsi la discoteca diventa un vero e proprio palcoscenico dove potersi esprimere dove esibirsi l'abito diventa un po' il manifesto di chi sei e di come la pensi e il lascia passare il passepartout per entrare in questi luoghi dove l'imperativo diventa essere il più stravagante il più bizzarro possibile proprio perché c'è una quasi una gara a mostrarsi e a essere a mettere in mostra a sfidarsi nel mettere in mostra la propria personalità il proprio modo di essere diverso alla fine degli anni ottanta c'è anche un'altra rivoluzione musicale arriva sempre dagli Stati Uniti arriva la House e la Tecno che trovano il massimo sviluppo negli anni novanta dove anche le discoteche raggiungono un numero spropositato cambia il mondo della notte perché arriva anche l'ecstasy che sono queste droghe iperattive che ti ti portano a essere sveglio più del naturale quindi la notte si espande oltre le 48 ore nasce un omadismo notturno che porta in giro le persone porta a non far finire la notte nei canonici orari che una discoteca che la discoteca fino a prima proponeva il DJ diventa una stare quindi esce anche dalla discoteca di residenza si sposta e quindi anche il suo pubblico si sposta con lui e quindi i weekend diventano veramente un movimento di massa che crea chiaramente dei problemi anche di ordine pubblico certo e di conseguenza c'è un e gli eccessi della notte che negli anni 80 magari erano ancora divertimento gioia diventano un pochino pagano un po' al loro prezzo l'opinione pubblica e la politica inasprisce i controlli correttate arresti chiusure spezzando un po' le gambe a un settore che comunque era nel bene o nel male in piena espansione perché purtroppo cominciano anche i primi morti sulle strade tutti ci ricordiamo le mamme rock le 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 tutto questo movimento anti discoteca avete fatto 50 anni di questa storia 60 anni dentro dentro le discoteche e fuori naturalmente quello che ci sono i riflessi della vita fuori insomma no no ma ha lasciato delle tracce molto indelebili ripeto nel bene e nel male probabilmente si conoscono più quelle negative mentre le positive sono state un pochino lasciate da parte che però se poi vai a indagare si scopre che molte cose sono venute fuori dalle discoteche io nella mia percezione non le vedrei quelle negative le vedrei solo in parte insomma forse perché sei uno dei pochi nella mia percezione ecco quello anche che è stato dopo però insomma chiaramente per un inizio diverso ma poi anche dopo mi è sembrata una percezione positiva insomma ecco chiaramente come tutte le cose che possono avere anche elementi negativi ecco sì no sì uno degli aspetti appunto che sicuramente più noto più più che ha influenzato di più soprattutto la moda gli stilisti andavano all'interno delle discoteche proprio per prendere spunto anche per le proprie collezioni e dalle stesse discoteche sono usciti sono usciti grandi professionisti che poi hanno fatto diventare hanno creato nuovi mestieri la comunicazione è nata dentro le discoteche i lavori di comunicazione siamo in un periodo in cui internet i cellulari non esistevano quindi si dovevano anche inventare l'immagine del luogo in cui poi il proprio pubblico si identificava certo chiedo qualcosa Lisa quindi Tondelli come l'avete inserito cioè perché naturalmente lui era dentro questo mondo è vero ecco cosa significa Tondelli in questo mondo la parola Lisa la scelta di Tondelli Francesca devi attenzione aspetta microfono ah adesso si sente è stato questi posti li ha raccontati ne è stato protagonista ed è riuscito con la sua scrittura irriverente lucida molto anche cinematografica a costruire queste atmosfere che come una voce narrante sono sparse per tutto per tutto il nostro documentario sono recitate per il nostro affice in linea quadri e le citazioni sono tratte da altri libertini weekend postmoderne e naturalmente primi e a questo punto si lascia la parola a Lisa e si per me allora innanzitutto grazie per l'invito vorrei proprio infatti io parlare più di Tondelli perché l'abbiamo inserito in questo film e e quindi provare a trovare quali sono i punti di collegamento più che tra Tondelli e altri scrittori in questo caso tra Tondelli e l'apparato discoteca perché in realtà hanno molti elementi in comune di certo Tondelli il riferimento è avvenuto subito perché come l'ha raccontata lui la notte la giovinezza il viaggio nessuno l'aveva raccontato fino allora in quel modo e Vicky come l'avremmo probabilmente chiamato noi in discoteca se fosse ancora con noi è un personaggio ambivalente era omosessuale ma reticente a dirlo perché in quegli anni non si poteva ancora parlare di omosessualità quindi dire che aveva l'AIDS non si diceva semplicemente era un intellettuale raffinato coltissimo ma scriveva di feste Weekend Postmoderno avrebbe dovuto essere un libro con tantissime storie di parti di feste di eventi in tutta Italia era di sinistra ma non era ideologico era cattolico ma scriveva di sesso e droga come nessuno mai prima l'aveva fatto infatti Altra Libertini fu subito duramente censurato Tondelli aveva profondamente bisogno di Dio ma essendo malato di AIDS questo lo gettava senza altro in un clima di disperazione fortissima ecco tutte queste ambivalenze le vedo anche nella discoteca nel senso che anche la discoteca a suo modo ha creato una nuova forma di religiosità pur essendo superatea quindi negli anni 90 esplode questa cosa il DJ diventa quasi un sacerdote i vocalist fenomeno esclusivamente italiano recitano all'infinito dei mantra che entrano a far parte della liturgia della serata questa musica ripetitiva aiuta a uniformarsi e a sentirsi parte di un gruppo in discoteca abbiamo la noia e l'entusiasmo di vivere tipico dell'adolescenza dove da adolescenti siamo annoiati di tutto ma abbiamo una grandissima voglia di scoprire la vita proprio come Vicky che si immergeva nella vita degli altri c'è un senso di solitudine ma nello stesso tempo si annega in una massa abbiamo in discoteca la sessualità libera quella veloce fugace consumata magari nei bagni di una discoteca ma in quegli anni abbiamo anche un grandissimo desiderio di essere amati e di trovare il primo amore grande della propria vita la discoteca nasce da una storia di casualità tutti i nostri intervistati ci hanno detto che state casuali le loro idee le loro intuizioni ma hanno dato vita a qualcosa di unico parliamo quindi anche di singolarità ognuno di noi col proprio outfit in discoteca vuole essere unico ma allo stesso tempo diluirsi diluire la propria personalità in un gruppo nel quale ci si riconosce ed è un gruppo dove l'emarginazione si trasforma magicamente in accettazione da tutti questi elementi contraddittori elementi così diversi che provocano smarrimento disperazione fanno sì però che collidendo fra loro dalla collisione tra purezza desiderio d'amore entusiasmo per la vita noia e venga fuori un fuoco che è quello che noi oggi leggiamo anche nelle parole di Tondelli anche leggendolo oggi nel 2020 ed è lo stesso fuoco che troviamo in una serata in discoteca secondo me un altro tema importante che ho sentito alcune persone stamattina hanno altri interventi l'hanno trattato il tema del ritorno a casa ma la casa vista come un luogo del conflitto quindi l'importanza del viaggio come diceva anche prima Fulvio mi sembra che può essere sia mentale che fisico entrambi può essere anche solo un viaggio per andare verso un sé interiore per ritrovare un vero sé e come diceva un altro intervento dicevano stamattina ogni viaggio ha una colonna sonora e in questo caso nel nostro film la colonna sonora passa dalla disco music all'ausa alla tecno ed è la musica dei nostri viaggi dei sabati notte questa voglia del viaggio è un viaggio anche delle volte faticoso così come è faticoso all'interno della discoteca passare attraverso le persone perché siamo tutti stretti quindi passiamo con difficoltà e quindi diventa quasi un trapassare un rito iniziatico che ci porta verso l'altro mondo raggiungo quindi questo altro mondo dove come accennavo prima l'emarginazione non solo diventa accettazione ma diventa a volte anche esaltazione pensiamo a tutto il mondo queer transgender la prima casa per togliersi dai marciapiedi che hanno trovato è stata proprio la discoteca ce lo dicevo un nostro intervistato in discoteca il bello e il brutto non esistono più quella sera sei l'assoluto protagonista il tema quindi che avete toccato anche stamattina del mentire che è una una cosa indispensabile a volte per vivere per rendere la realtà più sostenibile per rendere la settimana lavorativa sostenibile perché sabato so che sarò il re della festa il re della pista invito infatti a vedere su youtube si trova il trailer di uno spettacolo che fece anni fa un coreografo francese che si chiama Thomas Lebrun intitolato il re della pista dove lui non prende danzatori belli sinuosi dai corpi perfetti anzi prende persone magari troppo alte troppo magre sgraziate troppo grasse però basta avere un pavimento illuminato sotto come la febbre del sabato sera con le luci colorate due fari puntati addosso la musica alta e lo spettacolo inizia la trasformazione si compie e ci sentiamo tutti i protagonisti per quei dieci minuti è una magia che in discoteca si compie sempre ogni sabato notte e un'altra similitudine che trovo tra Tondelli e la discoteca è che raccontò il presente non con un punto di vista distaccato ma vivendoci e annegandoci dentro ecco questo è quello che volevamo fare con questo film raccontare la discoteca come accennava prima Francesca da un altro punto di vista nell'intervista che sentivamo di Tondelli stamattina è chiaro che lui non si pone mai in un'ottica giudicante ecco proprio questo noi non volevamo fare la discoteca è sempre solo stata giudicata mai analizzata dall'interno e quindi proponiamo con questo film un punto di vista più intimo io ho lavorato per moltissimi anni in molte discoteche e quindi spero di avere impresso questo film proprio un altro punto di vista inoltre Vicky fu il primo scrittore a scrivere come se tutte le ideologie del novecento fossero alle spalle catapultandoci quindi verso un futuro in maniera più veloce e la discoteca ha fatto questo ha cancellato tutto ciò che è esistito prima il modo di divertirsi precedente quindi tutto viene scardinato e nasce un nuovo modo di vivere la notte che per forza di cose poi ha ripercussioni anche nella vita diurna vi citerei vi leggo giusto tre righe di Enzo Mari che è un era purtroppo è morto poco tempo fa uno dei designer più importanti italiani che ci dice il primo problema di un progettista è quello di definire il proprio modello di mondo ideale e non quello di creare un'estetica il progettista non può non avere una sua ideologia del mondo se non ce l'ha è un imbecille che dà solo forma all'idea altrui ecco secondo me in questo senso Tondelli è un progettista con una sua ideologia del mondo e parlando appunto degli anni ottanta il decennio raccontato in Weekend Postmoderno è vero è vero che sono vacui superficiali esagerati ma hanno comunque al loro interno una loro ideologia c'è stata una sperimentazione grandissima negli anni ottanta e vediamo anche tantissimi teatri d'avanguardia che nascono si sviluppano alcuni anche proprio all'interno delle discoteche quindi questa leggerezza degli anni ottanta deve essere vista e la leggerezza anche della discoteca deve essere vista secondo me da un altro punto di vista e cito la prima delle elezioni americane di Italo Calvino che dice proprio che la leggerezza non è superficialità ma è la maniera di sopperare con un grandissimo balzo intuitivo e quindi distaccandoci da terra le difficoltà del presente ecco io penso che questo siano riusciti a fare non solo Tondelli ma anche i protagonisti della nostra storia gli eroi di questa epopea italiana di un'Italia che oggi non c'è più e quella che sia Tondelli che la discoteca mettono in scena è quella che chiamiamo la sfilata del desiderio e Tondelli l'ha messa in scena benissimo nei suoi libri quando racconta della riviera romagnola che la definisce la città che non sa dormire mai in cui gli italiani cercavano un luogo di evasione e perdizione lì arrivavano persone da tutta Europa quindi era un momento di grande scambio e siamo solo nell'85 non è nostro racconto ci fermiamo intorno alla fine degli anni 90 quando tutto quello che Tondelli aveva visto ha un'esplosione enorme diventa la notte si mangia il giorno diciamo e oggi viviamo in un momento dell'attesa purtroppo con questo virus stiamo tutti attendendo qualcosa il vaccino la terza andata non solo l'ambiente discoteca che sono costretti ad essere chiusi da marzo tutto il settore divertimento anche il teatro tutta l'arte vive un grandissimo momento di attesa e Tondelli è uno scrittore che ha attraversato l'attesa se pensiamo a camere separate comunque è un'attesa di qualcosa che non so però se arriverà mai e in questo caso è come se fossimo in attesa di una festa che chissà se riusciremo a rifare e quindi ci abbandoniamo a una memoria di quello che è stato e di cosa avremmo potuto fare e non lo possiamo fare quindi la domanda che ci dobbiamo porre è quella che si pone anche Kerouac che dice dove andiamo non lo so ma comunque dobbiamo andare e mi avvio verso la fine del mio intervento leggendovi uno stralcio che non siamo riuscite purtroppo a mettere nel film perché c'erano troppe citazioni di Tondelli che avremmo voluto mettere questa è rimasta purtroppo fuori quindi approfitto adesso per leggerla insieme per poi farvi vedere l'ultimo spezzone del film con un'altra citazione di Tondelli ed è questa allora mi dissi che sarebbe bastato procedere in linea retta senza oscillare né da una parte né dall'altra percorrere la costa come un viale lungo decine e decine di chilometri e concentrarmi su chi avrei incontrato creature della notte che danzano come falene intorno alla loro sorgente di luce questo siamo e prego Graziano di mettere il nostro estratto Grazie 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 Temo non si sia sentito praticamente nulla è stato un problema di connessione internet a un certo punto quando parlava Lisa almeno non so se è stato così anche per gli altri Ragazzi di Filos scusa Lisa l'ha sentita tutta non ho sentito la parte del video eh il video esatto il video possiamo posso provare a rimandarlo scusatemi non è un problema è una disconnessione che c'è stata in genere proviamo a vedere se riusciamo a rimandarlo Graziano io faccio un tentativo scusatemi proviamo proviamo poi si fa quello che si può è un problema grazie ok Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Quello che ho vissuto per tutto quel periodo non era la normalità, era qualcosa di straordinario Grazie a tutti Il regista si chiese se fosse veramente questo ciò che aveva desiderato per la sua vita Non seppe rispondere In quel momento, sospeso tra la notte e il giorno, sentì solamente di essere per la prima volta vivo nel proprio sogno di ragazzo Il protagonista principale del suo film A Rimini, quella notte, tutto durò un attimo Grazie a tutti Grazie a tutti Attendiamo fiduciose la riapertura dei cinema E aggiungerei anche la regione Film Commission che ci ha sostenuto anche economicamente Vincendo il bando degli adulti vivi Sì, la regione Emilia Romagna e Monte Veneto Ringraziamo tantissimo le Film Commission E noi ringraziamo voi, ringraziamo Francesca, ringraziamo Lisa Speriamo di poter vedere il film al più presto nei cinema Ma comunque di poterlo vedere e di poterlo veramente apprezzare Come dimostra il vostro racconto Di rivivere questi periodi Per quanto mi riguarda erano periodi meravigliosi Quindi con tanto di positivo Grazie mille anche di questo nuovo e inedito omaggio Insomma Pier Vittorio Tondelli Grazie Grazie a voi Grazie mille Dopo questo momento ripasso la parola a Fulvio A Fulvio Panzeri appunto Che ci ha chiesto un piccolo supplemento Appunto per una cosa importante Grazie Fulvio Va beh, anch'io ringrazio Le autrici Di questo film E di cui abbiamo Come dire Seguito un attimo la lavorazione Concedendo i Diciamo i diritti Per la riproduzione Delle Delle frasi Di Tondelli Proprio perché Secondo noi è importante Una di quelle costole Di quei lavori Che vanno a impreziosire Lui Campos moderno Noi volevo ricordare In questo E lo facciamo sempre Durante le giornate tondelliane Le persone che In qualche modo Sono state amiche Di Di Pier Vittorio E hanno aiutato Noi negli anni Anche a Tenerne Vivo Il ricordo E per cui Volevo ringraziare Daria Nicolodi Che è morta Venuta a mancare Il 26 novembre Attrice straordinaria Di Sceneggiati tv Negli anni Negli anni Settanta Compagna di Dario Argento Interprete anche Di Film Della Figlia Asia Che È Sempre stata Come dire Uno dei simboli Di Dinner Party Il testo teatrale A cui Pier Vittorio Ha sempre Tenuto Moltissimo E Lei È stata Una Interprete Straordinaria Di quel Di quel testo teatrale Fin dagli inizi E poi Anche nel decimo Anniversario Della Morte Avevamo fatto Una Diretta Su Rai 3 Su Raggio 3 In cui Lei aveva Aveva appunto Recitato Ancora Nel La Sua parte Per cui Un Grazie Un Grazie Postumo E Ricordo A una Delle Delle Persone A cui Pier Vittorio Era Più Legato Ricordo Se la ricordiamo Tutti In profondo Rosso Era una Delle sue Interpretazioni Più Famose Insomma Ecco Grazie Una Morte Anche Prematura Anche per Lei Perché Aveva Solo 70 Anni Mi Sembrava Come dire Doveroso Perché Lei ha Sempre Accolto Le nostre Sia Quando abbiamo Fatto Il numero Di Panta Di Pier Vittorio Sia Quando Gli Si è Chiesto Lei Si è Sempre Come Dire Come Dire Non Si è Fatta Pregare E Assolutamente Esatto Ha Voluto Lei Riprendersi Quello Che Era Un ruolo Che Riteneva Suo Mi Sembra Anche Lo Spirito Giusto Di Questi Seminari No Si Condividono Le Cose Sul Piano Umano Che Sono State Fondamentali Proprio Nell'esperienza Di Pier Vittorio Di Tutti Quelli Che Vi Hanno Partecipato Insomma Quindi Grazie Grazie Anche Di Questo Ricordo Fulvio Ora Passiamo Diciamo All'ultimo Momento L'ultimo Appuntamento Di Questo Seminario Così Ricco Del Ventesimo Appunto Seminario Con Olga Campofreda Olga Ecco Buonasera A tutti Buonasera Allora Presentiamo Parliamoci Parlerai Insomma Del tuo Del tuo libro Dalla generazione All'individuo Giovinezza Identità E impegno In Pier Vittorio Tondelli Ha pubblicato Da poco Appunto Presso Le edizioni Mimesis Così Quindi Innanzitutto Complimenti Per Per il libro Per l'impegno E naturalmente Per Questo omaggio Questo omaggio A Pier Vittorio Tondelli Ecco Qual è stata L'idea Iniziale Del tuo libro Da dove Sei partita E quali poi Risultati Ti sembra di avere Raggiunto Dunque Prima di Parlare Della ragione Per cui Questo libro È nato Voglio davvero Specificare La modalità Con cui Questo libro È stato Scritto È stato Un lavoro Assolutamente Di squadra Infatti Ci tengo A ringraziare Tantissimo Il supporto Che dal 2014 Anno in cui Ho cominciato A scrivere Questo Progetto Il supporto Che ho ricevuto Dal centro Di documentazione Tondelli Nel Nello specifico Da parte di Erika E Graziano Ma veramente Tutto lo staff Sono stati Magnifici È cominciato Come un progetto Di dottorato Che ho svolto Alla University College Di Londra Un progetto Andato avanti Sotto la supervisione Di Enrico Palandri E di Beatrice Sica Anche loro Assolutamente Grandissimo Supporto Lungo tutto L'iter Di lavoro E di ricerca Perché Nasce Questo progetto Dunque Graziano Se per favore Puoi Già far partire Le slide Grazie mille Ho preparato Una serie Eccoci Sì Questo è Il libro Perché Nasce Questo progetto Questo progetto Nasce Dal desiderio Di Liberare Di voler Liberare Tondelli Dal suo ruolo Di rappresentante Di una generazione Che sia poi Quella degli anni Settanta Del settantasette Nello specifico O degli anni Ottanta Di cui poi si fa Portavoce Come abbiamo visto Precedentemente In tanti modi Liberare Tondelli Quindi dalla generazione Certo Non significa Ignorare Il suo ruolo Nella generazione Quanto quella generazione Ha influito Sui suoi scritti Su tutta l'opera Tondelliana Del resto Appunto Noi siamo In quanto In quanto Esistenti In un luogo In un tempo E questo Determina assolutamente Ogni produzione Culturale A cui ci riferiamo Tuttavia Nel caso di Tondelli Avevo notato Da studiosa Che Questo suo Costante Ritorno Questo costante Ritorno Della critica Alla generazione Del settantasette Per altri Libertini O agli anni Ottanta Per gli scritti Successivi Invece che Creare Produrre Valore ulteriore Intorno all'opera Tondelliana Invece Ne sottraeva Valore Allora Questo libro Insegue proprio Una sottrazione Insegue Il prodotto Della generazione Nella quale Tondelli Si è mosso Nella quale Tondelli Ha scritto Ma anche Quei valori Letterari Universali Che al di sopra Di quella Generazione Invece adesso Permangono Io penso Sempre al Saggio Di Elliot Tradition And Individual Talent Un saggio In cui Si parla Della Connessione Della Delle opere Letterarie A livello Universale Cioè ogni Scrittore Deve essere Consapevole Di inserirsi All'interno Di un sistema Che va già avanti Da tantissimi Secoli Prima di lui E con queste voci Dei suoi precursori Ogni scrittore Deve sapersi Deve sapere Entrare in dialogo Allora Qual è La voce Di Tondelli In questo dialogo Questo è stato L'inizio Della mia ricerca Che mi ha portato Negli archivi Tondelliani Ai quali ho avuto Accesso anche Grazie Ai permessi Accordatemi Da Pupio Panzeri Dallo stesso Centro Di documentazione In questi Archivi Ho notato Che permaneva Un'ossessione Già notata In tutta L'opera Tondelliana L'ossessione Per il tema Della giovinezza Un tema Che torna Si ripete Da altri Libertini Attraversa Pao Pao Finisce In Rimini Arriva Modificata Ripensata In camere Separate Allora Ho deciso Di inseguire Questo Filone Questo tema Universale Per vedere Perché Innanzitutto Tondelli Fosse così Ossessionato Dalla Giovinezza Dunque Vorrei farvi Vedere Un Un'immagine Che però Non riesco Eccoci Allora Questa immagine Ecco Se oggi Non fossimo Nel mezzo Di una pandemia Potrei Chiedervi Di Di Riconoscerla Con più facilità È il cortile Dei principi All'interno Del palazzo Dei principi Dove Generalmente Queste Giornate Tondelliane Avvengono Prendono Atto Nel 1978 Nel luglio Il 30 luglio Del 1978 All'interno Di questo Cortile Dei principi Pier Vittorio Tondelli Diventa Performer Diventa Performer Di Una brevissima Rappresentazione Svolta Nell'ambito Di una serie Di rappresentazioni Interpretate Dal simposio Differente Questa compagnia Di teatro Alternativo Guidata Da Celestino Pantaleoni Questa persona Celestino Pantaleoni È stato proprio Colui Che ha regalato Due Bozze Di Performance Bozze Di script Teatrali Al centro Di documentazione E queste Bozze Questi Inediti Sono assolutamente Incentrati Sull'idea Di giovinezza Che io stavo Rincorrendo Allora È bellissimo Immaginarsi Tondelli Un giovane Tondelli Ancora studente All'università Di Bologna Che si fa interpreti Di uno scritto Al quale Probabilmente Aveva lavorato Nei ritagli di tempo Tra la tesi E quello Che sarebbe diventato Altri Libertini Ricordiamo bene L'anno Il 1978 Altri Libertini Sarebbe uscito Dopo due anni Nel frattempo La tesi Sul romanzo Epistolare Aveva fatto Incontrare A Tondelli I Libertini Delle relazioni Pericolose Per esempio O l'anonimo Lombardo Di Arbasino Che come abbiamo Anche visto Negli interventi Di questa mattina Ha avuto Una grandissima Influenza Sull'autore Correggese Ecco Mi piacerebbe Leggere con voi Proprio attraverso Le parole Di Tondelli Come era Organizzato Il Cortile Dei Principi In quel 30 luglio 1978 Allora Vediamo Com'è costruito L'apparato scenico Come sono disposti Gli oggetti Di scena Da un lato Un banchetto Un inginocchiatoio Illuminato Da candeline colorate E profumato Di incenso indiano Uno snoopy Di pezza Appoggiato sopra Una foto Del performer Appuntata Il diploma Di maturità La cartolina Di leva Un paio di biglietti Continentali Una Marilyn nuda La faccia di Marco Ferreri L'autoritratto Di Ugo Mulas Insomma L'armamentario Privato Del performer Cioè il mio Cioè la mia vita Ufficiale E la mia vita Privata I miei miti Che nello stesso momento Divengono miti Generazionali Quindi c'è questo passaggio Fuori e dentro La generazione In sostanza Ai quattro giovani evocati Se ne aggiunge Un quinto L'esecutore Che al pari degli altri Rappresenta Le proprie contraddizioni Le proprie vittorie Le proprie sconfitte Allora In che cosa consisteva Questa performance Questa performance Era nient'altro Che un reading In verità Di circa otto minuti In cui Tondelli Nell'ambito Di questa Camera Tardo adolescenziale Ricostruita Nel cortile dei principi Leggeva Dei brani Tratti da Queste opere Lettere da Sodoma Di Bellezza L'anonimo Lombardo Di Arbasino Ultime lettere Di Jacopo Ortis Di Foscolo E i doloni Del giovane Werther Di Goethe Allora Perché dice Alle quattro voci Se ne aggiunge Un quinto La voce Del performance Queste voci Sono le voci Selezionate Tutte in prima persona Da Tondelli Che riflettono Sul loro essere al mondo Tondelli seleziona Attentamente I passaggi Di queste opere Che hanno in comune Il fatto che I loro protagonisti Sono tutti personaggi Che sceglieranno Il suicidio Tutti giovani Personaggi Che sceglieranno Il suicidio Un atto romantico Romantico In modo esteso Perché chiaramente Del romanticismo Abbiamo Goethe Abbiamo Foscolo Ma Tondelli Estende Questo atteggiamento Ai protagonisti Dell'anonimo Lombardo E delle lettere Da Sodoma Che cosa significa Il suicidio Il suicidio Qui è esattamente Un atto romantico Di affermazione Non di sconfitta Questi giovani Che sono giovani E marginati Come abbiamo visto qui Che c'è scritto In una nota al margine Tondelli proprio scrive Si tratta di emarginati Di outsiders Allora Che cosa succede A questi outsiders Questi outsiders Non riescono A integrarsi Nella società Circostante Nella società Nella quale Dovrebbero presentarsi In quanto adulti Una volta superato Superata la fase Della giovinezza E allora Pur di non conformarsi A regole sociali Borghesi Normative Conformiste Scelgono Di dichiarare La propria diversità Essere per sempre Giovani Essere per sempre diversi Attraverso la morte Parliamo Dell'omosessuale Con le lettere Da Sodoma Parliamo O con l'anonimo Lombardo Parliamo Dell'innamorato Dell'innamorato Rifiutato Con Goethe Parliamo Del dissidente Politico Anche con Confuscolo E Tondelli È il quinto Giovane Che in quel momento Nella performance Chiamata tra l'altro Jung e Werther Quindi il personaggio di Goethe diventa personaggio universale Li raggruppa tutti Ecco in quella performance anche lo stesso autore Lo stesso performer Scusate Sceglie insieme agli altri quattro Di simulare un suicidio Questo suicidio è appunto un atto di affermazione Che cosa succede a questi giovani che non riescono ad integrarsi Che non vogliono crescere perché crescere e diventare adulti significherebbe adattarsi ad una società borghese, normativa, conservatrice I loro valori sono altri, i loro lavori sono quelli della differenza, sono quelli della non conformazione, sono quelli del corpo, del sesso Espressi in modo molto più vicino a quello dei vecchi libertini del Settecento Dove come proprio Arbasino diceva attraverso il libertinaggio affermavano il proprio dissenso Che cosa succede? C'è un altro inedito che ho inserito sempre all'interno del mio libro Dalla generazione dell'individuo Grazie sempre all'aiuto di Fulvio Panzeri Questo secondo intervento teatrale che invece non è mai stato rappresentato Racconta di una giovinezza che trova la soluzione non nel suicidio Ma in una rinascita lungo i binari metropolitani Questa seconda performance si chiama Appunti per un intervento teatrale sulla condizione giovanile Ecco non mi soffermo molto su questo secondo inedito per questioni di tempo Ma la cosa più importante è questa Tondelli in quel momento abbandona l'idea del suicidio romantico Si avvicina all'influenza della letteratura bit e americana In particolare nella persona di Jack Kerouac E si rende conto che il viaggio, soprattutto il viaggio sulla strada Che tornerà spesso anche in altri libertini Il viaggio sulla strada è una forma alternativa di educazione Non istituzionale che permette al soggetto di formarsi Di crescere, di superare quello status di costante marginazione Ma al tempo stesso di non conformarsi con la società borghese Allora a questo punto nascono i libertini Nascono i libertini nel 1980 Si arriva a Pao Pao nell'82 Questi giovani, eterni, giovani di Tondelli Si fermano nel 1985 con Rigni Si parla qui di eterna giovinezza Perché l'eterna giovinezza a questo punto è ormai chiaro Non è una fase della vita biologicamente determinata Tondelli non parla di giovani come potrebbe parlare di giovani un sociologo La giovinezza di Tondelli è qualcosa di universale Qualcosa di concettuale Efemerale oserei dire Cioè inafferrabile I libertini sono quei personaggi che vivono ai margini di una società eteronormativa Fondata sul culto della famiglia Del lavoro, della produttività Non sono adolescenti Non tutti i libertini di altri libertini sono adolescenti o giovani In modo esplicitamente determinato Semplicemente non sono personaggi identificabili in quanto adulti Perché essi stessi rifiutano questa identificazione Se essere adulti significa appunto avere un lavoro Produrre per la società secondo determinati parametri Obedire e conformarsi alle istituzioni Si viene a creare questa equazione Giovinezza contro maturità Che corrisponde anche a alterità contro conformismo E questa formula in verità È stata per me una chiave di lettura fondamentale Per interpretare tutta l'opera tondelliana Una chiave di lettura che come dicevo prima Si ferma a Rimini In Pao Pao ancora vediamo benissimo La rappresentazione dei giovani personaggi Giovani omosessuali all'interno Delle istituzioni della caserma Che tuttavia riescono a proteggere le proprie individualità Nei momenti di svacco tra un piantone e un altro C'è l'istituzione che non riesce a corrompere Le identità differenti, libertine di questi personaggi Rimini invece ha un'altra storia Passano tre anni dall'ultimo romanzo Pao Pao E Rimini è un romanzo Che già nasce con l'idea di essere un fumettone Come Tondelli stesso lo definisce Un best seller Rimini è un romanzo di genere Un poliziesco Che mette insieme tantissimi altri sottogeneri Come quello del romanzo rosa Il romanzo omosessuale Appunto come ho detto la spy story Dove appunto il protagonista Marco Bauer Giornalista Comincia ad indagare su un omicidio Ma la cosa più interessante Che io ho scoperto riprendendo Rimini Con questa nuova chiave di lettura Che ero riuscita a elaborare A partire dagli inediti Che avevo studiato È stata incredibile Cioè c'è una storia Nelle trame e sottotrame di Rimini Che non è stata particolarmente osservata Invece importantissima È la storia di Claudia Da alcuni Definita come storia di Beatrix E anche per questo Forse è ancora più nascosta Chi è Beatrix e chi è Claudia? I lettori di Tondelli forse si ricorderanno Beatrix è questa donna tedesca Di professione antiquario Che ha una sorella minore Appunto Claudia E che a un certo punto In seguito alla scomparsa La fuga in verità Di questa sorella Decide di mettersi in viaggio Sulle sue tracce E arriverà poi a Rimini La sua storia si intreccerà Con quella degli altri personaggi Nel quadro articolato Architettato In modo assolutamente Così Armonico Da Pier Vittorio Tondelli Quello che mi interessa È parlare di Claudia Claudia che io definisco L'ultima dei libertini L'ultima dei giovani Che si autoproclamano outsider Che decidono di rimanere ai margini Allora immaginate Rimini Che è questo romanzo postmoderno Assolutamente asciutto Nella lingua Assolutamente Non sperimentale Quanto lo era stato Altri libertini Se non conoscessimo Il percorso di Pier Vittorio Tondelli E giustapponessimo Le due opere Le due pagine Quasi sembrerebbe Un altro scrittore E invece no Si tratta di un'evoluzione E il passaggio La connessione Diremo l'anello mancante È questo personaggio di Claudia E voglio leggervi qui La descrizione di un'altra camera La camera di Claudia Che si va a sommare Alla camera del performer Che avevamo visto Nel cortile dei principi Nel 78 Alla famosissima camera Di Anna Carla Che invece racconta E mette dentro Tutti Gli elementi Degli altri libertini Dal punto di vista Degli oggetti Di quella generazione Gli oggetti culto I film culto La musica culto Di quella generazione E poi c'è Claudia La camera di Claudia Era rimasta esattamente uguale Da quando se n'era andata A 16 anni Per vivere in un appartamento Di Hausbetzer A Ale Stor Allora c'era un ragazzo Nella sua vita Un ventenne magro E allampanato Emmett Era un politico Un giovane uomo Pieno di ideali E di convinzioni E cause perse Faceva parte Di un gruppo violento Rabbioso Distruttivo L'alba in cui La polizia Li fece sfollare Li vide protagonisti Di un'occupazione Feroce E inedita Allora Questo brano Questa piccola citazione Si immette In un circuito narrativo Che era Di molto lontano Da queste immagini Che ci parlano Di 77 Di anni 70 Di comuni Di centri sociali Di scontri politici Cioè questo punto È l'anello Che manca L'anello di Di convergenza Tra il Pier Vittorio Tondelli Di altri libertini E il Pier Vittorio Tondelli Invece Che arriverà a scrivere Poi camere separate Che cosa succede A Claudia In questa storia Beatrix Sua sorella Si metterà appunto Sulle sue tracce E le due Finalmente Si Si rincontreranno A Fiabilandia Questo parco Di divertimenti All'interno del quale Claudia aveva trovato Rifugio Per un periodo E La riconciliazione Fra le due sorelle È una riconciliazione Molto importante Perché Qui Claudia Si racconta Tondelli Dice appunto Che Claudia Aveva conosciuto I buchi Aveva conosciuto La droga L'eroina Gli sfollamenti E Nonostante questo Lei racconta Tutta questa Sua esperienza Questo suo Personale Romanzo Di formazione Alla sorella Si confessa E tramite il racconto Acquisisce Una propria Maturità Una propria Identità Non è più La sorella minore È Claudia Un personaggio Assolutamente Distinto Indipendente Che capisce Tramite l'arte Del racconto Quanto tramite Le parole Sia possibile Modellare Creare Se stessi Indipendentemente Dalle istituzioni Dalle strutture Sociali Nelle quali Invece Siamo cresciuti E nati Quindi questo potere Della parola Scoperto attraverso Il personaggio Di Claudia Che è l'ultima Dei Libertini Secondo la mia lettura Le interferenze Di Claudia Con il romanzo Rimini Arriveranno Anche sul piano Linguistico Infatti Quando Claudia Incontra Marco Bauer Vi invito a rileggere Quel pezzo C'è Claudia Che attraversa In una descrizione Veramente magistrale Di Tondelli Claudia attraversa La strada A Marco Bauer Che attende Ad un semaforo Nella macchina E lei Si poggia Sul cofano Di questo Veicolo Ed è chiaramente Agitata Chiaramente Sotto effetto Di stupefacenti E lì comincia Tutta una descrizione In alletterazioni E in termini Non di italiano standard Ma di gergo giovanile Che in Rimini Non avvengono In nessun altro luogo Quindi la posizione Potenza Degli altri libertini Attraverso Claudia Infiltra E si infiltra Nella trama Di un romanzo Che invece Era del tutto Distante Da quello D'esordio Arriviamo poi Al weekend Postmoderno Dopo Rimini Nel 1990 Esce Come abbiamo ricordato Il weekend Ma io Considererei Come ha già Anche detto Fulvio Panseri Gli scritti Del weekend Come appunto Una sottotrama Come una serie Di riferimenti Costanti Lungo tutto Il decennio Degli 80 Che hanno accompagnato L'intera produzione Tondelliana Allora Perché è fondamentale Il weekend Postmoderno Per ricavare Un senso Di letterarietà Di universalità L'elemento Universale Della scrittura Di Tondelli Ecco Un altro Un altro indizio È proprio Nelle pagine Dei reportage E io Mi riferisco Per esempio A Vienna Mi riferisco A la descrizione Di Firenze La descrizione Di Amsterdam E a questo filo rosso Del Satori Che torna Costantemente Ogni volta Che Tondelli Esplora Dei luoghi Molto lontani Dei luoghi altri Il Satori È un concetto Zen Buddista Che Tondelli Prende in parte Da alcuni scritti Arrivati in Italia In clima controculturale In parte Gli arriva anche Attraverso invece Proprio L'interpretazione Della Beat Generation Tondelli Legge il libro Tibetano Dei morti Tondelli Legge Hermanesse Ma legge Anche Satori A Parigi Di Kerouac E allora È possibile Dire che la sua Interpretazione Di questo fenomeno Che di fatto È una illuminazione Filosofica Un'illuminazione Ontologica Direi anche La trasforma In stile letterario In espediente letterario Diventa uno strumento Per potenziare L'analogia Allora Il Satori Tondelli lo racconta Come illuminazione Che mette vicino Luoghi Di fatto Geograficamente Lontanissimi O mette vicino Avvenimenti Per luogo E per tempo Altrettanto lontani Trova Il terzium Comparationis Trova L'elemento Comune Analogico L'elemento Che unisce Queste due Lontananze Trova L'universale Allora Attraverso Questa idea Di Tutto Che Tondelli Esplora Attraverso I suoi viaggi Attraverso La descrizione Di questi luoghi Dentro e fuori L'Italia Tondelli Impara A raccontare Diversamente Il tempo E che cos'è Il tempo Se non La cornice Dei concetti Di giovinezza E maturità Che cos'è La giovinezza All'interno Di un tempo Assoluto Che cos'è La maturità All'interno Di un tempo Assoluto Questi concetti Vengono a perdere Di senso E così Tondelli Si ritrova Reintegrato In un mondo Che invece Diviso In In due Tra vita adulta Vita Degli emarginati E dei Dei giovani Era rimasto Lui precluso Questo è Secondo me Un punto fondamentale Cioè Si arriva Nel 1989 A Camere separate Il meraviglioso Camere separate In cui lei In cui Leo Si guarda Allo specchietto Al finestrino Dell'aereo Si sente Non più giovane Eppure non è adulto Cioè il protagonista Di Camere separate Non riesce Ad entrare Nella categoria Della maturità Perché? Perché non ha Un lavoro stabile Uno scrittore Non ha una famiglia Perché è un omosessuale Come fa A diventare Un personaggio Così Altro Altro Adulto Adulto Un personaggio così È destinato Ad essere giovane Per sempre Come gli altri libertini Di cui non sappiamo L'evoluzione Successiva Ad Autobahn Dunque Tondelli Elabora Questo Meraviglioso Concetto Di Alternativo Di romanzo Di formazione In cui A un certo punto Viene ad identificarsi Con la coppia Leo e Thomas Cioè Il suo essere adulto È L'avere attraversato Questa fase Della cura Del suo amante Del suo amato E Aver curato Questo amore Aver curato Questa storia Aver creato Questa nuova famiglia Leo e Thomas Lo qualifica In quanto Essere adulto Essere Non voglio dire Integrato Ma sicuramente Fuoriuscito Un essere fuoriuscito Dalla Dalla giovinezza Dunque Il mio testo Il mio saggio Continua Con un ultimo capitolo Dedicato Al progetto Under 25 Continuando La Riflessione Sul tema Della giovinezza Su cosa significa Giovinezza Per Tondelli Mi sembrava opportuno Appunto Citare Il lavoro Fatto Con Trans Europa Intorno Al progetto Under 25 Un progetto Che si è sviluppato In tre Antologie Nel corso Della seconda Metà Degli anni Ottanta Ed era nato Come quasi Un progetto Sperimentale Sociologico Tondelli Aveva Provato A rispondere Alla domanda Chi sono i giovani Degli anni Ottanta Chi sono i giovani italiani Di oggi Ma aveva deciso Di affidare A loro La risposta A questa indagine Aveva così Lanciato Una Un'idea Un progetto In cui Proprio i giovani Stessi Erano chiamati A raccontare Le proprie vite A raccontare Le proprie La propria Quotidianità La propria Identità Succede Che Tondelli Si ritrova A fornire Una serie Di consigli Di scrittura Che Ho provato A definire Quasi come Una scuola Di scrittura creativa Per corrispondenza Perché Con i testi Selezionati Tondelli Continuerà A lavorare Insieme Gli autori Continuerà A comunicare Attraverso lettere Interventi Di editing Fatti Per iscritto Per telefono Di persone Insomma Si crea Una comunità Intorno a questo progetto E I consigli Che poi Sono Alcuni di questi Raccolti Nella presentazione Di Under 25 Nel weekend postmoderno Ma anche Nell'opera Omnia Tondelliana Questi consigli Parlano Di Un'attenzione Particolare Al non cadere Nella letterarietà Che cosa Significa? Allora Io ho Isolato Un Un brano Un punto Interessante Da questo Appunto Da questa presentazione Di Under 25 Tondelli scrive Il parametro Della letterarietà Di un testo È assunto In base I valori Del lessico Scolastico Piccolo Borghese Il risultato È una presunta Letterarietà Che ricorda Le maestre Che ci insegnavano In blu Che ci segnavano In blu Sul foglio Di protocollo Più buono Aspettare Avere una gran fame Ridere sgangheratamente Ridere a crepapelle Ecco allora Che i ragazzi Al momento Della creazione Assomigliano A tanti Giovini Signori Pariniani Che usano Espressioni Del tipo Mi prese Per gli omeri D'altra parte Questa presunta Letterarietà Ha a che fare Con i kitsch Delle canzonette Di Sanremo La presunta Letterarietà Di un testo Si fonda Sulla presunta Letterarietà Dei fenomeni Di consumo Di massa Tutto diventa Valore Perché valore Di massa Allora Eccoci arrivati Al punto Dell'impegno Tondelliano Se la giovinezza È un modo Per occupare Posizioni Ai margini Per rifiutare La società Borghese Per rifiutare Una retorica Normativa Binaria Dal punto di vista Dei generi E dell'identità Ecco allora Anche Lo stile È significativo Lo stile Adottato Dai giovani In particolare E quindi Questi Protagonisti Queste identità Ancora in formazione Ancora non integrati Deve essere Uno stile Non integrato Deve essere Uno stile Anticonformista Che arriva Nell'ottica Di Tondelli A coincidere Con L'idea Di Autenticità Dunque Tondelli Culturalmente Comincia La sua Battaglia Il suo impegno Contro La cultura Di massa Contro La società Letteraria Di massa E attraverso Il suo lavoro Svolto Con Under 25 Diciamo che Questo impegno Si fa Concreto Ecco E' fondamentale Secondo me Questo Questo punto Perché Penso che Tondelli Come scrittore Impegnato Sia stato Ancora poco Esplorato Invece Ecco Culturalmente Stiamo Attraversando In questa fase Appunto La fine degli anni Ottanta Una trasformazione Del concetto Di impegno Una trasformazione Che è stata In effetti Anche rilevata Negli scritti Di Gianni Celati A cui Tondelli Deve tantissimo Cioè E' un impegno Che non è Un impegno Politico Così come Sarebbe stato Interpretato Negli anni Settanta Non è un impegno Di partito Non è un impegno Di attivismo Da piazza Ma l'impegno Di Tondelli E' un impegno Uno a uno Che Si svolge Sulla parola La parola Creatrice Di significato E di mondi E' quindi Fondamentale Per creare Un mondo Alternativo Dove l'idea Di conformismo Possa essere Rigettata Fondamentale Davvero Questo Punto E' Secondo me Fondamentale L'idea Di soffermarsi Sull'idea Di un Tondelli Impegnato Di un Tondelli Non giovanilista Ma Giovane Perché Quello che si nasconde Dietro La sua idea di giovinezza E' il rifiuto Dell'integrazione Vista Come Mortificazione Del diverso Lo dice Lo stesso titolo Altri libertini Altri Perché diversi Libertini Perché Sempre Riprendendo Arbasino Il libertinismo Il libertinaggio E' L'atteggiamento Culturale E politico Direi In opposizione Alla Società Conservatrice Io Mi sto avviando Alla fine Del mio Intervento Ma Ci tengo a Precitare Una cosa In tutta questa ricerca In tutto il mio Lavoro Intorno a Pier Vittorio Tondelli E la giovinezza E' stato fondamentale Lavorare Nell'archivio personale Dello scrittore Allora ecco Io non sono Una storica Mi occupo Di letteratura Tuttavia Durante il periodo Della pandemia Tutti Credo Abbiamo imparato Qualcosa Ad Alessandro Barbero E i suoi podcast E c'è questo Che Gli archivi Istituzionali Raccontano Una storia Istituzionale Questo lo diceva Anche Un mio caro Collega Pasquale Palmieri Parlando di archivi Una storia Istituzionale Che Tuttavia E' sempre Parziale Mentre invece Le emozioni I punti di vista La storia Delle singole Identità Vanno ricercate Aggiungo io Negli archivi Personali Degli scrittori E' lì Che Riusciamo A A interpretare Le sfumature Del loro lavoro Che Possono Sfuggire Invece Ad uno Sguardo Ampio Che considera Solamente Il racconto Della storia Insomma Spero Di Aver Riassunto Adeguatamente Un lavoro Di sei anni E più Ma E' stato Veramente Un viaggio Incredibile Parlavo di Giovinezza Forse ecco Sono uscita Dalla mia Giovinezza Finendo questo Libro Per tutto il Tempo Che mi Ha preso Però E' stato Formativo Ho imparato E spero Che Insomma I lettori Che vogliono Approcciarsi A questo Tipo Di lavoro Possano Prenderlo Non solo Come Come testo Informativo Ma anche Come ispirazione A cercare A ricercare A sporcarsi Le mani Nei documenti A far parlare Quei documenti Tanto Da significare Da significare Altri scritti Come Come è capitato A me Grazie A tutti Dell'attenzione E' stato Veramente Bello Essere Virtualmente Con voi Speriamo Di vederci Tutti Presto Grazie Ad Olga Campofreda Per questa Ricerca Così Interessante Così Suggestiva E ricca Di spunti Che penso Innanzitutto Costituisce Sicuramente Un punto Di riferimento Nella bibliografia Di Tondelli Quindi Questo Aiuta E aiuterà Tutti Coloro Che vorranno Proseguire Negli studi E Naturalmente Offre anche Degli spunti Di ricerca Molto Importanti Significativi Anche Quest'ultima Parte Dedicata All'impegno Anche Stamattina Si era accennato A certe cose Che potevano Risalire Anche Dal punto Di vista Del metodo Alle fantasticazioni Di celati Anche Ne ho parlato Ci sono Molte cose Interessanti Sulla Sulla giovinezza Certo E comunque Rimasto Un autore Sempre giovane Anche questo Nonostante Ci sia Una giovinezza Biografica E un'altra No Però Insomma Come Leopardi Insomma No Cioè Morire Prima di 40 anni E sempre Morire Da giovani Purtroppo Grazie davvero Org Campofreda Veramente Molto Interessante Io Chiudo Dando la parola Naturalmente Ad Erika E ringraziando Di nuovo Tutti quelli Che hanno Partecipato In questo Bellissimo Ventesimo Seminario Che ha Segnato Davvero Un passaggio Secondo me Molto significativo Negli studi E nella Diciamo così Nella condivisione Delle idee Dei percorsi Che sono Sempre una cosa Fondamentale In questo tipo Di incontri Erika Ti lascio la parola Grazie Sì Io In realtà Mi unisco Ai ringraziamenti Perché è stata Una giornata Davvero Molto Ricca Davvero Molto Ricca Abbiamo festeggiato Questo ventennale Direi Nel migliore Dei modi Con Con davvero Degli interventi Molto Molto Accurati Ringrazio Tutti quelli Che hanno Partecipato Tutti quelli Che hanno Partecipato Al mattino E Quindi Jesse Simonini Giulia Martini Zilaria Ghirardini Mauro Locantore Angelo Favaro Pietro Salvatore Reina Massimiliano Bertelli Pietro Polverini Stefania Balducci Ringrazio ovviamente Fulvio Panzeri Lisa Bosi Francesca Zerbetto Ringrazio Olga Campofreda E Infine Ringrazio Graziano Per averci Consentito Attraverso Anche il suo Lavoro Di essere qui Oggi E vorrei Chiudere Siccome Alla fine Abbiamo parlato Molto di Giovinezza Con Un piccolo Estratto Da un'intervista Di Francesco Brancatelle Marino Sinibaldi Dell'84 Proprio per Vittorio Tondelli Si parla di Giovinezza E si parla Di maturità Soprattutto E si parla Di impegno Io chiudo con Questo E ringrazio tutti Senti a proposito di giovani Una delle protagoniste del tuo libro Parla di trash Di rifiuti Riferendosi all'ambiente nel quale vive Ma lo dice Contemporaneamente disgustata E sedotta L'orizzonte delle proprie esperienze possibili Sembra non riesca a guardare Al di là dei propri segni di riconoscimento Qualche anima bella potrebbe dire Che è il rifiuto della maturità Io penso che il problema Della mia generazione Sia ora Una specie di rincorso Un po' in ritardo Della maturità C'è una gran voglia Di conquistare Una propria tranquillità interiore O quella che si chiama La maturità Che non vuol dire L'incorporamento All'interno Di istituzioni O all'interno Di pratiche Normali E così Vuole semplicemente Raggiungere un certo equilibrio Che è stato un po' perso Nel giro In questi anni Allora C'è una specie però Di rincorso Siamo un po' di sfasamento Anche in questa ricerca In questa rincorsa Di maturità Che però credo Sia fondamentale Cioè io stesso In questo libro Che sto scrivendo Sto cercando di raggiungere Proprio una maturità Sia stilistica Che forse anche umana Riesci a dire Con estrema sincerità Cosa ne pensi Di i tuoi giovani colleghi Letterati O scrittori O narratori Che ti si vogliono Molto bene Cioè molto bene Perché Io sento fortissima La necessità Di un confronto Con altra gente Che scrive Visto che in Italia È difficilissimo Per un giovane Pubblicare Esordire Soprattutto E pubblicare Allora Io sento Proprio la necessità Di trovare Queste persone Questi altri scrittori Di vederci attraverso In conti Oppure sulle pagine Di qualche rivista E di Di cercare Insomma Di dibattere Di problemi della letteratura Da un punto di vista Non giovanile Ma Nuovo Fondamentalmente nuovo E quindi Appena escono Sempre Opere nuove O scrittori nuovi Sotto i trenti Oppure Intorno ai trent'anni Va benissimo Sotto i trenti Sotto i trenti Sotto i trenti